E ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Iman, oggi ragazzi siamo qua tornati nella serie principale di Minecraft, siamo nell'ottavo episodio Oggi avevo intenzione da come avete letto nel titolo di andare nel nether, ma prima volevo come al solito farvi vedere la stanza degli iscritti Perché state aumentando sia di iscritti sul mio canale sia di persone che trovano la parola segreta Oggi saluto Ombretta Savio, Luca Todaro e Leonardo Gianmillari Vi ricordo ragazzi che se anche voi volete avere il vostro cartello nella serie principale di Minecraft Dovete semplicemente trovare la parola che io dirò, non vi dico dove ma dovete trovarla voi E riscriverla sotto nei commenti, a quel punto io la leggerò e vi metterò nella stanza degli iscritti Allora intanto mi avete dato 3 miliardi di nomi per il cane e il cavallo, più che altro per il cane E quindi oggi vedremo un attimo di dargli un nome, quindi vediamo un attimo dove sono le mie targhette Eccole qua, non le avevo viste però vabbè Allora intanto mettiamo un pochettino a poncicinini proprio Mettiamoci l'armatura, non so perché non avevo l'armatura, ok Allora targhetta, il nome che mi è piaciuto di più per quanto riguarda il cane È stato detto da Gigi Chiave, che sarebbe Giulia Chiavegatti Che si chiama Dogman, non so se è una razza di cane anche però non lo voglio sapere Abbiamo il nome, intanto si è fatto notte perché per cercare tutto ci ho messo una vita Signori abbiamo Dogman, ok l'altro invece il nome del cavallo che mi è piaciuto di più È stato detto da Dario Baldoni che ha detto Ferrari Molto molto utilizzato e molto molto bello Mettiamolo Ferrari Tanto è notte, non mi piace questa cosa, non mi piace Non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace Via 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 Nooo, ti morisse la dinastia Nel dubbio mi faccio un po' di esperienza to Dai però devo registrare, non potete venirmi a rompermi le balle Ma andate da un'altra parte, cioè di tutti i villaggi che ci sono L'importante è che non ci sono i creeper Poi se ci sono i creeper è un problema Iscrivetemi mi raccomando al canale, dobbiamo arrivare ad 800 iscritti Veloce, 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 veloce Andiamo a dare il nome ai Bene, allora, io direi che comunque sto Ok, facciamo il giro allora, facciamo il giro perché c'è il creeper Rosso come una casa c'è un creeper Allora, senti un po' No, 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 non mi voglio, non voglio Basta che non mi muore il cavallo Almeno quello Ferrari, ciao Ferrari Come va? Oh yes, I have a Ferrari Ok, andiamo direi nel nether Perché, signori, oggi volevo fare la cosa del nether Poglia Via, 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 via E che cavolo ci faceva il creeper lì? No, ma perché? Ma perché? Perché non puoi andare a lavorare? No, 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 no Guarda che roba, fa schifo Ok, qua devo poi prendermi la sabbia e mettere un po' a posto Ora voglio solo andare a vedere dentro a nether come stiamo messi Come roba Ma si può? Ma che diamine ci faceva un creeper lì? Ma i creeper qua, dovunque ci stanno Cioè non... Ah, qua mi ha spaccato il portale, ok Io sono caduto Dove sono caduto? Lì sono caduto Allora, se cado lì Poco mi assicuro che crepo Oh, sono andato vicinissimo Allora, facciamo così Come faccio a scendere? Devo trovare un modo per scendere Più che altro perché ho il piccone Ah, ok, 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 ok Avevo fatto la scalinata Vedi che qualcosa avevo fatto Perché il quarzo non si prendeva da solo Ahia, che male Ok, 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 ok All right Cosa... Il piccone ce l'ho, vero? Oh No, sì, ok Beh, non mi è andata tanta roba nella lava Fortuna No, non ti tocca a te Perché già una volta A momenti ti toccavo A momenti mi veniva addosso Come chissà che Che c'è? Sento rumori Oddio santo, aiuto Ma che diamine è sta roba? Io conoscevo gli slime Ma non pensavo grossi così Ok, no, 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 no Come non detto Ora rimaniamo dove sappiamo che siamo No, vabbè Io sento i lama qua Non so se mi è buggato il mondo Io sento i lama Ma che ci fa un lama là? Ok, qua c'è sta della roba Ok, vabbè, facciamo una cosa Facciamo una cosa Torniamo nella vita normale Facciamo prima la base lì E poi la base qui Perché se no io Giuro che Non ce la posso fare Allora, iniziamo a piattire Intanto tutta sta zona Perché sì Bello il nether Bello Ma finché ci sono i gas Che ti rompono il balle Non è mica tanto bello Cioè All right Già è tanta bella roba Che Ne si è spawnato di nuovo Un altro portale Vicino a quello che già avevo Perché se no Era un problema grosso Non ho preso del quarzo Ho preso del quarzo Perché? Non so Mi si è spawnato del quarzo Vabbè Vi ricordo che ha 750 iscritti Ogni 50 iscritti Accontento una persona E porto una serie 750 iscritti Si è già candidato a Far Cry 3 Come è uscito sto cavallo Da qua? Allora Vabbè Già no Allora Mi serve Dicevo Mi serve Della cordicella Non ho la cordicella Mi stai veramente Prendi il nome di culo Non ho la cordicella Ah ok No mi sembrava strano Non aver la cordicella Che il ferro Ne ha veramente Veramente Un po' Quindi se io faccio così Per fare una freccia Allora l'arco ok E fin qui Le frecce come le fai? Ok mi serve Il bastoncino La selce E La piuma Ne ho veramente niente Di piume Devrei fare Devrei fare l'allenamento Di polli Almeno quante ne ne fai? 8 Brutto 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 8 frecce Veramente Misero Devo uccidere Vediamo Non sono Neanche Entrato Io vorrei andare a capire Cosa è quella roba lì A me sembra tipo La fortezza Del Del nether Oh io sono pronto Per andarmene Non mi iscrivete Mentre faccio i video Allora io Così così me ne vado via Eccolo lì Ne basta uno? Ne basta uno? Ma seriamente? Ne bastava uno Per zittire questi rompipalle Che vada da qua Fino a quella specie di roba Che mi sembra Una specie di Di fortezza del nether Mi sembra Una fortezza del nether No Mi porto male Stiamo male Mh Maroon Non devi farmene Sto andando ciumalissimo Mi sono visto E ho sentito passare Dania la mia vita In due secondi Ok Vabbè qua buttiamoci tanto E fin qua ci siamo Devo arrivare laggiù Sì ma laggiù dove? No è laggiù No raga È la fortezza del nether Ci scherzavo Ma abbiamo trovato Magari veramente La fortezza del nether Però devo fare una specie Di ponte gigantesco Non ci credo mai Nella vita Ma vabbè È la fortezza del nether Oh mio dio Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ci sono i blades Ci sono i blades Ragazzi Ci sono i blades No no Fermi Fermi Ok Cala di nuovo It's morto All right Ok Devo Adesso trovare il mondo Per scendere Quello è un problema Cioè non era tal problema Quello ma Infatti non era un problema Allora basta far Così Non cadere Signori Siamo nella fortezza Del nether E mo E mo Non lo so Perché non si vede una mazza Partuma male Perché Per un lingotto di ferro Fare tutta strastrat Ok Mi sono spaventato Sono i pigmen 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 Tranquilli No no Non vi tocco Non vi tocco Io non mi faccio Tu i diamanti Yes Sono felice Il problema è Oh Vabbè Tanto sono qua dentro Che mi vuole che mi rompa le balle Sono chiuso Io tenterei Tanto so dove sono morto eh Tenterei andarlo a uccidere Merda Merda Ok no Stavo scherzando Andiamo a farci un giretto Che bella casa eh No però eh Gli scheletri pure qua Devono rompere Devono rompere pure qua Allora Retrofront Che molto probabilmente qua Non c'è nulla Nope Another chest Forse è la chest Che abbiamo visto prima No Lingotto d'oro E spada in oro Non è che sia chissà cosa Perché loro fa un po' cagare Ma comunque Bene Ora come ritroviamo la strada Per risalire in casa Per risalire basta Non in casa Devo ripercorrere tutto a ritroso Così Se qua c'è Se non sbaglio Il Raga mi sto cecando Giuro che non ci vedo più Dopo sto video qua ragazzi Sono cieco No Qua ci sono passato adesso No 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 Non ci sono arrivato da qua Aia che male Non ci vedo più raga Se è vuota anche questa Si sono passati qua Esatto Oh Prossima cosa Porto le torce Allora Sentiamo di tornare a casa Speriamo di tornare a casa Facciamola meglio Ecco Esatto Abbiamo Cosa abbiamo Due diamanti Due accendini Acciarini E un po' d'oro Non è che abbiamo chissà che cosa Però si poteva avere di più Però vabbè Non l'abbiamo esplorata tutta Nel prossimo episodio Andremo a esplorarla tutta E niente Ragazzi Io spero Che il video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel mi piace Commentate e iscrivetevi Al canale Raggiungiamo 800 iscritti Se volete nuove serie Nuovi video Su questo canale Specialmente quello Che mi consigliate voi E noi ci riveniamo come sempre In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi